Sindaco Parente, Aversa, benvenuti, vi aspettavo. Questo è il cortile della chiesa di Santa Marta, un luogo dove è possibile assaporare il bel tempo passato e ammirare tutto il suo fascino. Onorata sono io di fare il suo incontro. Sono talmente emozionata che mi sento come una madre che riabbraccia il proprio figlio. Maestro Cimarosa, dopo lunga attesa lasci che le stringa la mano. Gentili ospiti, siamo giunti all'epilogo del nostro viaggio. L'uomo che è dinanzi a voi non ha bisogno di presentazioni e Domenico Cimarosa, l'illustre musicista a cui ho avuto l'onore di dare i Natali. Ma adesso sento solo il forte desiderio di ascoltare la sua musica. Maestro, perché non ci venite? Ma è stato il mio primo pensiero quando ho saputo di questo incontro. E anzi, ho permesso di ingiarmare un piccolo concetto che ho allestito proprio qui all'interno di questa chiesa. Mavini, Mavini, ti entrati? Entrati, c'entrati tutti i quali, Mavini. Entrati, Sant'Anna. Prego. Confesso di essere sinceramente emozionato. Mi ricordo il mio debutto a Roma con la commedia musicale Le Stravacanze del Conte. Tantate poi. Mi ricordo la mia commedia musicale Stavvicenda Le Stravacanze del Conte, dal quale poi sussugirono una serie innumerevole di esibizioni e di orchestrazione nei maggiori teatli d'Italia. Ehi, Russia, voi! Ehi, Russia! E la Bispic mi fu il proposto di diventare maestro di cappella alla corte di San Pietro a Burgo! Avevo 38 anni. Ho ancora un sacco di bei ricordi di quei luoghi. E anzi, io ho approfittato per del lungo itinerario per sostare nei maggiori capoluoghi d'Europa. E intanto, un attimo solo, cosa porto a Ninna a dormire, e intanto che il buon genio di Mozart feriva, si spegneva, se ne lieva, eppure morta la fastidia, mi fu proposto di diventare maestro di cappella alla corte viennese. Soltanto la mia vecchiaia fu triste. Tornai a Napoli. E qui, oltre a sosseguirsi di certe vicerie sulla mia persona... Sono Dio Cristo! Avete toccato il corno? No, no, no. Siete scaramandico pure noi. Ma l'avete trocima ronda? Ma quando mai? Lungi da me, un'azione si bassa. Si bassa, si bassa, si bassa, si è detto! Eh, ma bassa. Come se non lo sapesse, che se riesce a caccia di una rosa porta a seccia. Adesso sta vicino a me. Quanto c'è, tu sono? Ma qua sei se è seccia. Io buttai seccia soltanto a me stesso. Quanto c'è a tre nostri... Sempre sia la data. E' scritto da me, non è complica! Io non saprei a che parte mi fa stare. Si è vasta a destra o si è vasta a sinistra. E nessuno di voi mi ha detto una mano. Quando tornai e Borbono mi ha detto una galera, per quanto mi ha detto, e mi ha detto fuori a Plenezio. Però, stasera, voglio far pace con tutto quanto vuoi. Musici!